Cachofo, che è il cane. Allora, cane normalmente si dice cow, ma siccome si parla di animale domestico, di solito per dire abbiamo un cane, abbiamo un cucciolo, si dice temo un cachofo, quindi cachofo è più un termine affettivo. Poi gatto, gatto, pesce, pesce, coelio è il coniglio, tartaruga, tartaruga, gallo, gallina, che sono il gallo e la gallina, peru, u peru è il tacchino, poi abbiamo bod, allora u bod è la capra ed è maschile in portoghese, così come u patu, patu è la papera ma è maschile sempre in portoghese. Poi abbiamo buhu, che è l'asino, u porcu è il maiale, u cavallo è il cavallo, poi abbiamo vacca, che è la mucca, touro, che è il toro, passaro, allora il passaro è un uccellino domestico, può essere magari un canario, un canarino, oppure un papagaio, un pappagallo. Quindi, passaro è un uccellino, di solito per dire uccello in portoghese si dice ave, scritto ave, però in questo caso se si tratta comunque di domestico è passaro. Grazie. Grazie.